chi è il scamming rom aiuto tu no ok 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 ma io sono stato scammato ecco dopo ciao bannato forse forse un po troppo prove valuti lei valuti lei allora cos'anno gli avversari oriana hanno così siamo noi oriana queen a momu ashra khan ma quanti se non fosse per queen è andata così ma no ma si può liberare vorino mi sembra eccessivo lo state maltrattando ma tipo troppo assai la gigio tu sei un bullo ti ho un pugno ciao bruco è bella inferna la momu si però volevo gli altri suoni volevo ma guarda che è bellissimo pieni skin belle c'è anche quella quella multicolore mi piace un sacco delle olimpiadi è tipo le braccia di un colore le gambe di un'altra la testa di un'altra ancora non lo so rick non credo mi sa che devi chiamare la mamma cosa dobbiamo fare tristana tristana bardo ma gli avversari hanno bardo allora abbiamo perso contro bardo non si può vincere grazie 37 e mamma quale ma quale ma la ringrazio anzi grazie media si sa anche di 9 mesi bentornato alla croma delle olimpiadi guarda che bellissima quella skin c'è anche quella di corchi che non mi ricordo come si chiama che magnifica e per magnifica intendo scena proprio per questo è magnifica no no povero nico ma nico ha fatto un sacco di ferie appena iniziato a lavorare già fatto due tre settimane di ferie ma che cacchio vuoi hai letteralmente appena iniziato a lavorare già fai le ferie e ancora ti lamenti e già che ti lamenti ma pensa a me pensa pensa a me allora dove dobbiamo andare orianna asher khan ma guarda siamo troppo forti guarda se non fosse per bardo direi gioco è vinta andiamo a prendere lo shweeper il team di abbristare è pieno di dark harbust stavo per prendere anche io dark harbust proprio alla fine ho lasciato l'elettro cute perché amo è così ciao gongo ciao tra paolo puntuale da domani ci potete sperare ragazzi anzi non ci potete sperare ci dovete credere da domani perché ve l'ho detto oggi ancora agosto ancora siamo frivoli così in vacanza ma da domani tornano i clienti che sareste voi dove startiamo ragazzi in blu in realtà sarebbe meglio red se qui mi dà una mano start red posso queen lei mi aiuta la ringrazio ciao ciao ok ciao ciao ok ciao ieri letto compleanno ma pensa un po guarda che gentile ma si starata w v vabbè w facciamo oh che bello signor kovu allora buone vacanze ci ne anticipo anche perché domani mi diventirò ma w start e non devi fare niente solo ad attaccare con amumu devi cioè starti le w e ad attacchi e guardi ok ma è tipo lentissima non faccio danno ragazzi ma che è ma forse conviene startare di aeraptor ciao smerzino ciao gabriele si sente il nerf su kane guarda prima era debole adesso è debolissima però boh che dobbiamo fare tuo fratello ti scamma il prime allora innanzitutto quanti ne ha in più di te o in meno di te tuo fratello ok andiamo a fare chicken e belino promu ma guarda il signor scrottino ciao matt ma quella è proprio dark harvest lissandra mega aggressiva e cattiva forse ho spiegato una bozza perché useless grazie fino bentornato andiamo a cancare oh no era guardato pure mi hanno anche spottato segg vabbè allora io levo questa e e me ne vado ciao alla fine abbiamo scommato un po di esperienza poteva pure andare peggio no poteva sicuramente andare peggio se a 1.6 non a 1.9 lp a napoletano analfabeto non sono ancora capito faccio un po di difficoltà di 6 il 9 ancora capito secondo te amo va fatto bilanciato va fatto nel fatto ma in che senso va fatto nel fatto dopo come può essere nel fatto che hanno aggiunto una spell allora devo andare a fare lo scatto si ma si maxa la e si però anche l'acqua è carina ovunque con amumu sono impedito ogni volta cancello la w ok boh io direi che posso tornare a farmare tanto a bot non si può gancare nido non si può gancare vai amumu hai visto che carini che siamo adesso dove dobbiamo andare boys oh non lo so non lo so eh po' si stanno picchiando un pochettino magari si può tentare secondo me mid lane non non sciottiamo quello lì perché è il dark harvest e non ha il resolve guarda guarda rihanna come zona non è morta oh ecco no ha preso lei il carretto la kill what the fuck rihanna you selfish player disgusting no no mauriana mauriana mamma mia troppo bravi siamo io rihanna che coordinazione incredibile certo card sono un po' patetico what non ci sono ancora i golem come non ah perché lui ha start out offside I get it now va bene va bene va bene allora io vado a prendere vado a prendere come si builda mumu quello dobbiamo buildare vabbè buildiamola più for fun dai intanto non è che dobbiamo stare qui a buildare bene ah io ho messo quella pagliacciata di runa nelle scarpe gratis ok ieri carriato un game con jarvan lo credo bene hai visto me giocare jarvan come puoi non carriere con jarvan si può fare il telefonino solo dal pc non lo so se ci si può abbonare al pc dal telefono probabilmente si ma devi accedere non da boh non da applicazione ma da browser come se fosse desktop cosa così credo è un po' strano ora si può anche da app va bene va bene tra un po' ci andiamo verso bot side vada venga da testate tutti guarda che carino abbiamo anche la winning top actually insane un ever frost si poteva fare ever frost ma non ci ho pensato too late in realtà possiamo devare se le vuole pushare l'ammazziamo easy in che occasione si prende red smite quando il tuo campione è un fighter e prende red smite mamma mia mumu insane player si però mi scusi eh ma lei what ho lamentato troppi kill che spiegazione quando si prende la black river quando il tuo campione è sfruttabile la black river quando sei un bruiser quando buildi ravadon quando vuoi fare danno quando vuoi fare danno è così oh mi spiace signor billy ma no ma andrà benissimo signor billy non si preoccupi cosa vogliamo fare io vorrei rubare un characterian da oh l'ho preso holy shit ma non riesco a rubare un characterian come è possibile è così triste questa storia sono diventato a mumu main sono sempre stato mumu main in realtà oh guarda quante persone bot ulti di cartus ulti di lissandra rumin di lissandra un sacco di cose praticamente hanno fatto ehi allora diciamo che non sono in mio port i skillshot mi viene da pensare eeeh potrei aver missato si 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 ma non ho preso la speed what the fuck ah la passiva ok sono stato veramente patetico ragazzi però è andata bene dai nonostante il mio essere patetico è andata bene ah ma è nemmeno morto rihanna no vabbè pazzesco ma il laccio ci arriva lì no ci arriva lì come fa cioè intendevo dal dal blue pit grazie signor core quanto manca all'item mmm 500 gold giusto il tempo di prendere i campi top side gankare per normal kill ci dovremmo essere what cart si rubato i miei campi infame mentre io gankavo bot giustamente allora andiamo a picchiare e lissandra mmm devabile i wonder fino a che si vabbè almeno un po' poca no avevo il flash con la banana sed aia vogliamo esagerare cioè in realtà andoli oh no mia sei qui ok abbiamo preso la kill che volevamo prendere no alla fine abbiamo i soldi grazie molti buon di buon di no la nostra asce no no aspetta rakan è mia no no è mia rakan rakan no stai fermo rakan ti odio rakan mannaggia e vabbè ma sono dei kill stealer ma gli avversari un po' pazzarelli devo dire volevo che rakan rubasse la kill però la presascia non ho ben capito come vabbè cose che capitano alla fine possiamo restare abbiamo i soldi visto ok ok lissandra ha ora dato da qualche parte un altro libro abbiamo un muore studiato nemmeno l'assist è andata così che dobbiamo fare ah guarda cartus però 90 min oh mmm si arakan beh ma nemmeno io credo alla fine no non volevo riattivare la full fuck this un altro punto sulla è si ma incolpavo rakan no non incolpavo rakan era per dire rakan di stare tranquillo cercavo di dire di stare tranquillo non incolpavo oh guarda una cacata se la vuoi fai dare ci sono bro magari se cerchi di fai dare verso di me se riesce è meglio anche io ho anche la protobelt fiera non ha la r chissà se la w up ho ultato ma era un fat finger non volevo sprecare la ultima infatti non l'avevo sprecata avevamo preso la kill e poi oh mio dio sono patetico vabbè è andata così dobbiamo fare full tower a fuori di testate potremmo in realtà l'ha appena stata davanti ai miei occhi beh i miei occhi però non ci vedono molto bene a quest'ora dovremmo avere il tp no esatto l'ultimo tipo l'ammazziamo no no non l'ammazziamo andiamocene via mhm c'era anche l'heraldino o land io avrei un'idea una pessima idea tipo eeeh cosa vuoi che faccia non si fidava di me non si fidava mhm una brillante idea potrebbe eh grazie oh guarda i peperoni yummy 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 se vuoi cartus lo spacchiamo di botte io se solo non avessi fregato l'ultima iii ma cartus è broken scusa ma che è stun non mi pare corretto mangiamo dei peperoni e il bardo dov'è? mmm abbiamo trovato qualcosina aaaaaaah eeeh ma eeeh vabbè cringe addoggiare le qui di cartus mhm potrei aver sbagliato mhm vabbè però dai no non male non male circa ops mhm non ho messo una q ah è lui bravo ok ok ci sta il lui bravo in effetti ragazzi avete visto cartus non ho messo una q no vabbè mhm rampage 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 mhm mi vado a fare il red va ciao ciao avevo il flash non è vero mhm eeeh in realtà no ok cioè dovrei rimediare solamente uno ma troppo presto per cui devo prendere almeno altri due almeno cosa c'è questa mumu è il mio mumu il mio poderosissima mumu ma mumu non fa damage anche se sono full ap questo champ patetico ma che pazza ti pare mi raptor ma sei pazza eeeh è visto è visto vabbè però l'ho letto e mi aiutare di che mai no? basta non vuoi fare l'era vuoi fare il mio blue buff lasciatemi stare sarebbe carino per il livello 11 il loro red up la nostra ascia è bot abbandonata a se stessa raccanna in roaming imbattere da solo senza prio bot senza prio mid senza prio da nessuna parte heheheh oh fuck I'm so dead diciamo che il flash era così 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 il motto per andare in live puntuale vedrai da domani che è settembre vedrai bagliaccio amumu non fa danni ma infatti fa schifo sto champ what the fuck is amumu doing? vieni ehm eeeh va bene va bene ciao berti Ok Dove dobbiamo andare adesso Oh no l'altri cartus Bonk Sono un po' in grado questi teammates Arrabbiatissimo La mumu c'ha veramente rabbia Non mi sparare l'ecco cartus Ti voglio bene E sono senza ulti No l'ha presa lei Mannaggia Ero così vicino Gli a zofar a quanto pare No Bella flash E vabbè allora tutti quanti Hanno una Una risposta Alle mie azioni Shilling Shilling Poi vinciamo e flammano Non sono strani Se me sono strani Adesso faccio un ambush Ho deciso A mio modo da qua Finchè non faccio una kill ragazzi Finchè non c'è qualcuno Da grabbare A mio modo da qua Sono disposto a aspettare Tutto il tempo Nel mondo A meno che non vengono Ingaggiati i mid Allora Perché sono rientrato in Nel senso Capito Hai due Q Le sfrutti Ne hai due le sfrutti Se volevano Che Amumu Non tornassi In Nephite Noi gli mettevamo Alla seconda Q Quanto fa Che siamo Amo doing E sto tristano L'abbiamo Burstata Ok ok Cosa ci serve adesso Che nice split bot Ottima idea Con Orianna Asher Hakan Split pushare Perché no 1-3-1 Con Orianna bot Queen mid E noi top Direi a questo punto Ciao ciao Come stai? Oh Com'è il fight mid? Uh Ultri cartus No ma io Non devo sprecare Le comandaggine Forse posso Scammare una kill Aspetta Parabong Ma Mariana Le ruba tutte Insane Dice una word Ma Tre testate Non c'è voglia Close close We tried Non lo so Hakan Cosa vogliamo fare qui? Possiamo in realtà Anderebo a truotare Così A una certa Quello che gli pare Ragazzi Oh no Shutdown Wow Flash di Fiora Doppio Ma questa Mi chesa Oh no Vai Queen Bene bene Cosa dobbiamo buildare adesso ragazzi? Ravadon Ravadon for fun gaming Ma sì perché no Oh grazie Se hai nei tassi uno sarebbe anche meglio in effetti Broken Vabbè se volevano i tassi l'accuno mettevano una seconda a cui di riserva Com'è un rastrello? Eh carino 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 Simpatico Si allaccia È amichevole E vado a fare il red C'è il drago a breve La squadra mi inflammerà Non vedo ora a spawn il drake Cosmic Rider Cosmic Rider sarebbe il Cosmic Drive Grazie per il stab Grazie Sprea Buongiorno Challenger Fragolozzo E buondì anche a lei Buondì anche a lei E anche a tutti gli altri One trick a movie Sempre eccessivo Non trovo sia super mega divertente Cioè quando si è più one shot è carino però Insomma ecco Sono campioni più entusiasmanti Diamo Ma se però ponessi un Baron Così mi ha cacato la dico E dai proviamo Cosa abbiamo da perdere? Cioè non succede nemmeno che va Si reset Guarda lo shot calling Il macro Diamo Mugenius Faccio anche la doppia Q per rinvigliare più danno Forse un po' non spreco Tanto allora staranno pensando al Drake No? Un macro game genius a Momo E guarda che danni fa a Mobbio sul Baron Siamo già a 2k damage solo di Quell'altra spell La W che fa danno? Non so in che forma Possiamo leggere Boh Non capisco Eeeh Non so leggere Se mi ulta E il Bardo Nooo Non volevo ultarlo Che situazione triste Cos'era quella emotional ult di Carthus? Let me build pressure Ok ok Macro gamer Orianna Oppure questo Ah non ho mana Che tristezza Ma avevo la cosa Solo che non avevo mana Vabbè Patetico a Momo Onestamente patetico Questo champion Sempre senza mana What the fuck Ma come report a Momo? Abbiamo fatto un Signore engage Abbiamo fatto Oh My pit Poveri avversari Voleva jumpare Voleva tristana Ah stavo facendo il Rabadon Bravissimo Mi l'ho dimenticato Grazie Non so se ci arriviamo a buildare il Rabadon Ok Sì perché Orianna È andata Bella aggressiva Ulti di Alessandro Forse un po' Annesi Hai ragione 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 Mi l'ho dimenticato Scusate Scusate Chiedo scusa Ho sbagliato Mi l'ho dimenticato È il Rabadon Ok ok Facciamo i lupi Blue Gromp E si reset I guess Sai che non lo so Chi mancherà a killare Clemed Ah manca bard Vedi che bard è broken At least I don't give bounty Eh no Se la dai Poi non la dai più Secondo me Non ho fatto l'Everfrost Perché non me l'hanno detto Non ci ho pensato Però si potrebbe fare l'Everfrost Possiamo fare il cacchio Che ci pare comunque Forse Overkill Non ho la Speed me up baby Ahia Oltre di kart Smoio Avrei soldi per il Rabadon Però se mi vale la pena Andare a fightare Ma anche perché Il game è chiuso Quindi Tanto vale Partecipare Con una morte Se mi abbandona Mi salta Tosseristan Oh no Va bene Va bene Abbiamo preso Il Rabadon Alla fine Anche l'Everfrost Bluet Poverini Un po' disperati Emotionale Ma come Emotionale L'Engager Ma sei pazzo Incredibile Vader Vorrei dire No Vabbè Rakan Ok GG Well played I guess Piccolo report Ad asce Tossica Nei miei riguardi Ingiustamente Aggiungerei Wow Eh GG Ok Ah E' carino C'è di meglio C'è di meglio C'è di più divertente Non lo so Vi è piaciuto Mumu Non sono convintissimo Grazie signor Jam Uno Vino con Gianna Wow Deve essere davvero Entusiasmante Diamo un cuoricino Intanto A Orianna Orianna era mica La differenza Di quella Bottle In antipatica La Bottle In a report Orianna Onorata Ma in realtà Secondo me Era Mumu A behind machine Che ha fatto Vidare Orianna Però Come volete Come volete Ma che cacchio dici Ma mi hai visto Giocare a Mumu Super divertente Fucking Delusional Kid Che è il fucking Delusional Kid Ah la carta Sta flamando Un solo onore Che è il fucking